Milan, auta anche Teo Sinistra giocherà a Ballotouré. Problema non da poco per Pioli in vista di Udinese e Milan. Oltre allo squalificato giro Ud e all'infortunato Messias. I rossoneri dovranno rinunciare anche a Teo Hernandez. Il francese ha l'influenza e non prenderà parte al match di stasera. Al suo posto, sulla sinistra, giocherà Ballotouré, di nuovo titolare dopo più di quattro mesi. L'ultima volta che ha giocato dal 1 risale all'8 novembre contro la Cremonese. 0-0 a Lozzini, poi l'operazione alla spala e alla serie di panchine. Quest'anno il senegalese ha giocato sette partite tra Serie A e Champions, realizzando un gol decisivo contro l'Empoli il 1 ottobre. Chiamato a sostituire Teo anche in quell'occasione, l'ex Monaco siglò la rete del 2-1 al novantesimo. Prima del gol di Leao, fin qui ha giocato anche un quarto d'ora contro il Bologna e 195 in Coppa Campioni, 90 contro il Chelsea.